Mercato in entrate e in uscita, obiettivi per la stagione che verrà, ma non solo. La conferenza stampa di Luigi De Laurentiis è stata anche l'occasione per presentare la nuova maglia casalinga del Bari e la campagna abbonamenti. Predominio del bianco con doppia striscia verticale rossa interrotta al centro dal main sponsor Molino Casillo. Ecco qui il nuovo home kit per il campionato 2023-2024. Home kit indossato per la prima volta da Capitan Valerio Di Cesare, modello per un giorno, sbucato nel bel mezzo della conferenza che ha visto protagonisti al numero uno del club pugliese, il quarantenne centrale difensivo romano, il primo a essere riconfermato in questa sessione si diva di calcio mercato e anche l'uomo immagine della campagna abbonamenti sempre con te che scatterà ufficialmente alle ore 12 di martedì 18 luglio. Previste una prelazione fino alle ore 23, 59 di lunedì 31 luglio per gli abbonati della scorsa annata intenzionati a mantenere il loro posto al San Nicola. Previste anche delle speciali promo per questi ultimi, sempre fino al 31 luglio, e per le famiglie, anche se solo per le due tribune. Insomma, adesso dopo il silenzio assordante delle ultime settimane, sembra essere davvero tutto pronto per lo start della nuova stagione. Il gruppo bianco-rosso partirà quest'oggi alla volta del ritiro di Roccataso, 25 gli uomini a disposizione di mister Mignani che porta con sé in terrabruzzese i giovani pellegrini, l'Opse Chucu, i rientranti, dei prestiti, Polverino, Mane, Perrotta, Derrico, Rossetti, tutti però destinati a un nuovo addio. L'unico colpo in entrata ufficiale Filippo Faggio e diversi reduci dallo scorso campionato, tre le amichevoli in programma contro SD Roccavivara, Folgore, Delfino Curi e Juve Stabia con permanenza ai piedi dell'Appennino fino al 28 luglio.